Aronc, l'associazione amici della radioterapia oncologica, dieci anni dalla sua fondazione, potrà effettuare attività assistenziale su tutto il territorio regionale, come stabilito dall'Assemblea straordinaria dei soci nel corso di una riunione che si è svolta lo scorso fine settimana nella sala convegni del Barton Park a Perugia. Durante l'Assemblea si è proceduto inoltre ad approvare l'ingresso di Aronc in Ampas, associazione che svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale, nonostante la ridotta attività espletata da volontari nell'offerta servizi nel rispetto delle norme su Covid, Aronc è riuscita ugualmente a garantire l'assistenza ai pazienti fornendo sedute di riflessologia plantare presso la propria sede. Ed è stato anche garantito il trasporto dei malati per assicurare terapie effettuate anche in centri fuori regione. Ci siamo impegnati e abbiamo allargato il nostro tessuto, il nostro base sociale. Con grande sorpresa abbiamo raggiunto dei numeri molto significativi, molto importanti e tutto questo ci ha portato a avere una visione, una visione diversa di quello che pensavamo che erano le esigenze di Aronc di un anno fa, due anni fa.